Valeria Caracuta oggi tra i campioni presenti insieme ai tanti bambini in questa giornata di festa del giocavolley S3 in sicurezza. Allora che esperienza hai per te campionessa di Serie A? Salentina Doc qui a Lecce in questa giornata bellissima. Beh per me è un'esperienza unica, innanzitutto è emozionante perché è la prima volta che mi trovo in mezzo a tanti bambini nella mia città. Ci sono passata anch'io quando ero bimba, andavo a vedere le partite dei grandi campioni e chiedevo le autografie. Quindi per me essere qui oggi è sicuramente importante e aiutare questi bambini a crescere, a divertirsi è sicuramente una cosa bellissima. Quindi una giornata all'insegna del divertimento, dello sport, della sicurezza come si diceva e in mezzo a tanti campioni ci sarà sicuramente da divertirsi. Cosa può significare per un piccolo pallavolista essere al fianco di grandi campioni e vivere e respirare l'aria di una giornata come questa? Beh sicuramente è importantissimo perché al giorno d'oggi sicuramente non si vive, si vivono anche altre situazioni. Quindi il fatto di essere in una giornata così ben organizzata in questa situazione penso che sia un'esperienza unica e possa servire ad esempio per molti ragazzi che magari riescono ad avvicinarsi allo sport. Si è chiusa una stagione importante per te, se ne aprirà un'altra, insomma raccontaci un po' quella che è stata questa stagione e il tuo futuro. È stata sicuramente una stagione importante in una società molto importante, in una squadra molto forte. Siamo andati a un passo da obiettivi importanti però devo dire che è stata veramente una grande annata e sono molto soddisfatta di quello che è stato. Adesso mi aspetta questa nuova esperienza a Brescia e sono molto 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 contenta quindi non vedo l'ora di iniziare. Indubbiamente L'unica cosa che abbiamo fatto a Brescia è